1. Installare pezzi di ricambio Buongiorno a tutti! Ecco un'altra parte del video tutorial di Autodock per installare pezzi di ricambio Gli attrezzi di cui avete bisogno per la sostituzione Iscriviti al nostro canale 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 Consiglio di spazzenza Iscriviti al nostro canale Ametz Brightside Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale AUTODOC raccomanda, potremmo uscire un po' di spiaggia. 3. Avvita i spiaggia. 4. Avvita i spiaggia. 5. Avvita i spiaggia. 6. Avvita i spiaggia. 7. Avvita i spiaggia. 8. Avvita i spiaggia. 9. Avvita i spiaggia in frattiglia. 10. Avvita i spiaggia. 11. Avvita i spiaggia in frattiglia. AUTODOC raccomanda, invita i spiaggia in frattiglia. 8. Soltiare la ruota di freno del barco. 9. Soltiare la ruota di freno del barco. 10. Soltiare la ruota del barco. AUTODOC racconta di evitare il russare del barco. 12. Rettobi eluzione ai motori, pulitire il sito fassuolo per aiutare e tener limite. 13. Installate il testłą di cemento muggeno deiintonianchi e dei filfiati su una mancana di Projektion FD-5. 14. Collez talking del Mc Doyle F Charizard. Grazie a tutti.